Il successo, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono incontrati su quel palco, ma c'è stato anche Letta, insomma Tagliani, un po' tutti sono passati in questi giorni. Andiamo a vedere. Il centrodestra unito penso che finalmente dopo anni e anni possa essere, anzi debba essere determinante e compatto nella scelta del prossimo Presidente della Repubblica che spero non abbia la tessera del Partito Democratico in tasca. Tu nel governo Meloni entreresti? Ma assolutamente sì, è come io penso che se prendesse più voti la Lega la Meloni entrerebbe nel governo della Lega. Abbiamo lanciato questa sfida alla Premi. Chi avrà più voti andisce al Generato. Questo è evidente, quando si voterà noi siamo pronti, io penso che il centrodestra vincerà e nel centrodestra la Lega prenderà. Tanti voti e quindi ci stiamo preparando a governare. Meloni diventerà Premier. Ma tutti i fidi di Salvini? A Napoli diciamo chiacchiere e tabacchere, un bancho in Napoli non ne vengono. Servono i fatti, i fatti servono. Quindi Salvini parla parla ma alla fine fa il governo un po' con chiunque. Bravissimo. Grazie. 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 Allora Guido.